allora mister buonasera buonasera terminata un'altra settimana almeno oggi venuti ricordiamo che appunto mister per la mio della city gate quest'anno appunto a un campionato diciamo di buon livello allora un'altra settimana che è passata com'è andata mi sembra di aver visto più segno rispetto alla scorsa settimana stiamo cercando di recuperare qualcuno insomma che è partito un pochino in ritardo però abbiamo ancora un pochino di tempo insomma a disposizione quindi speriamo che nei prossimi giorni la cosa sarà ancora più completa settimana senza amichevoli quindi sono partitelli in famiglia abbiamo fatto ieri la nostra partita in famiglia domenica giochiamo a sora e poi settimana prossima abbiamo due impegni amichevoli insomma in esterna abbiamo preferito così questa settimana perché insomma stiamo portando avanti un programma che riteniamo sia sia giusto alcuni ragazzi insomma non erano disponibili e di conseguenza abbiamo già abbiamo preferito questo tipo di pianificazione anche perché vedo tra l'altro il prevedore atletico che mung ci tassolta pure lui quindi non sono lei a livello tattico ma anche ho visto tutte le cose separate quindi i ragazzi sono partendo a scampo no 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 assolutamente no però si divertono lavorano e si divertono quindi si sta creando un bellissimo bellissimo gruppo se non meno buonissima amalgama quindi dobbiamo lavorare sappiamo insomma che siamo chiamati a un campionato difficile e siamo ad oggi insomma ci stiamo guardando intorno per completare al meglio al meglio la rosa in attesa appunto di recuperare quelli che sono dei ragazzi insomma che ad oggi ancora purtroppo non abbiamo a disposizione però siamo estremamente fiduciosi del percorso che stiamo facendo siamo consapevoli insomma che quello che stiamo facendo può essere la strada la strada giostata per seguire ha detto lei quindi siamo completando la rosa significa che ancora non hai datorata di under oppure anche senior ma ne stiamo vedendo qualcuno e soprattutto a livello della batteria degli under che possa fare al caso nostro non stiamo valutando e a breve insomma sceglieremo qualche nodo e comprenderemo la cosa appunto prima ho accennato il fatto dei dei senior quindi che stanno rientrando e quindi moto per lei di conoscere quindi come gli valuto un elemento come alto perdi che non è l'ultimo arrivato insomma vabbè gregorio non lo devo conoscere io insomma è un giocatore che si conosce benissimo quindi per noi è un punto di riferimento sia nel campo ma ancora di più nello spogliatoio perché è un leader insomma fa parte veramente del dello zoccolo duro di questa di questa squadra ragazzi è un punto di riferimento per tutti e quindi insomma lo aspettiamo a braccia aperte speriamo il prima possibile io faccio di nome chiaramente per per far valutare il giocatore da lei che chiaramente quest'anno è arrivato lo conosce per i trascorsi ma quest'anno lo sta conoscendo di persone quindi penso sia un'altra cosa ma beh assolutamente le persone come bisogna sempre viverle quotidianamente no per capirne pregi e difetti ma poi anche dall'altra parte per fargli per mostrargli quello che sono io perché poi ci conoscevamo tra di cognome fondamentalmente quindi ci stiamo imparando a conoscere anche quotidianamente sulle piccole cose e adesso ha detto appunto lei che domenica c'è il sola rispetto appunto al nettuno che la squadra è sembrata un pochino imballata forse domenica come sarà ancora imballato oppure qualcosa di più si potrà vedere non abbiamo tabelle di marcia noi sappiamo sappiamo su che cosa stiamo lavorando sappiamo che cosa ci dobbiamo aspettare indipendentemente poi dal risultato perché sono partite di agosto insomma possono finire in maniera molto aleatoria ma non ci interessa il risultato davvero lo dico con la massima serenità incontriamo una corazzata che sta facendo benissimo sta facendo roll a grappoli a tutti ma non ci interessa in senso noi sappiamo perfettamente che cosa che qual è il nostro percorso e fino a che noi staff insieme ai nostri ragazzi insomma siamo allineati su questo ci spaventa solo è una corazzata che da che cos'è gaita è una squadra che oggi si sta amalgamando la squadra oggi si sta amalgamando questa squadra non ha limiti per quanto mi riguarda una squadra che può far male a tutti e adesso stiamo cercando di lavorare molto sul concetto di solidità collettiva che logicamente ci può permettere la domenica di essere equilibrati ogni domenica quindi non fare alti e bassi e quindi con questi ragazzi si può davvero andare a fare la guerra stiamo lavorando su quello giustamente questa amiche oro di sola servirà per poi vedere le altre successive chiaramente in mezzo c'è appunto il sorteggio per calendare quindi può essere interessante capire che cosa potrà succedere sì ma non è la partita di sola che va a determinare qual è il collocamento migliore del gaeta in questo in questo campionato dopo tre settimane di lavoro squadra completamente nuova per quanto riguarda che poi tanti ragazzi nella rosa sono veramente nuovi oltretutto allenatore completamente diverso rispetto giustamente rispetto all'anno scorso con le proprie con le proprie idee l'anno scorso avevano un'idea ben precisa quest'anno logicamente stiamo cercando di mantenere quello che pensiamo sia 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 idonea altre cose logicamente che stiamo cercando di portare noi poi ci vuole tempo ci vuole tempo 4 settembre fisicamente come sarà la squadra stiamo lavorando per arrivarci arrivarci bene non troppo carichi troppi carichi troppo carichi di cambio perché poi come si può dire insomma partire bene da fiducia da fiducia a tutti all'ambiente in primis ma all'eggente anche ai ragazzi perché poi quando dai tanto è bello anche avere poi la concretezza la tangibilità del risultato quindi anche loro poi nella realtà capire che quello che stanno facendo in realtà un riscontro positivo e quindi insomma cercheremo di partire subito subito fuori però non ho non ho dubbi su questo aspetto confido molta fiducia 360 gradi loro lo sanno io lo cerco di manifestare quotidianamente finché mi ripeto finché mi seguono non ho assolutamente nessun tipo di timore ma cosa aspettiamo allora il mercato degli andri per poi valutare tutti gli andri che ha a disposizione grazie il boccalupo credo